Adacchè che bello, adacchè che bello Ciao Franco Svalera Franchino Franchino E dove è? Dai, guarda di qua Taghiamo 81 I Davidi? Ci volevano qua i Davidi Taghiamo 81 dopo Molineamento E da contaviglia storia 81, video nuovo Ciao 81, il mio numero preferito è 81 E Sarabong, dov'è? No, perché stavamo a subire Romano ti tago Marco, ciao